eccoci qui ragazzi buongiorno buanzi buonasera a tutti voi benvenuti in questo nuovo video allora allora di cosa parliamo parliamo della partita di chieri ci torniamo un attimino su perché ragazzi perché vedo troppo malcontento dei tifosi della roma vedo troppa delusione troppo andare addosso alla squadra andare addosso a morigno io capisco tutto capisco la delusione di ieri capisco le sconfitte con il verona con il venezia soprattutto con le grandi e compagnia bella però bisogna anche essere obiettivi e valutare la situazione della roma in questo momento la valutazione delle condizioni sia fisiche che degli infortuni e compagnia bella perché altrimenti qui non si fa altro che buttare merda sulla squadra sull'allenatore sulla società senza avere un minimo di criterio no perché ho visto certi youtuber ieri partita indecente partita imbarazzante partita di merda di sud e giù a destra e sinistra e compagnia bella non è che con questo atteggiamento la squadra va meglio o praticamente la situazione migliora sbroccando facendo sfoghi io pure l'ho fatto in passato sfoghi su partite molto peggiori però perché se noi andiamo a valutare la partita di ieri voi dovete tenere presente alcune cose allora primo fra tutti la roma mancano diversi giocatori stanno giocando sempre gli stessi da dieci giorni e voi sapete benissimo il perché perché la rosa è quella che è perché vigna è rientrato in campo da una settimana dal covid cristante è rientrato ieri dopo il covid pellegrini è infortunato e mancherà un mese villar non c'è perché anche lui c'ha il covid vabbè spinazzola è di lungo corso e abbiamo dei giocatori che le stanno giocando tutte 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 vale a dire casrop vale a dire michitaria e sharawi abram ragazzi questo a lungo andare pesa pesa tantissimo sull'economia di una squadra perché tutte le squadre hanno fatto turnover ieri l'inter giocava con gaiardini e compagnia bella il mio con messias e compagnia bella ragazzi questa la lunga si paga perché anche giocando tutti dieci giorni tre partiti ogni tre giorni gli infortuni sono dietro l'angolo cioè noi ieri purtroppo abbiamo pagato secondo me una cosa fondamentale che giocando con diavara in mezzo al campo tu chiaramente perdi tantissimo in mezzo al campo cioè come giocare in dieci purtroppo quello ci abbiamo era l'unico che poteva giocare e quello ha giocato ieri poi abbiamo assolutamente pagato la giornata no di vere tu che io lo continuo a dire vere tu è un discreto giocatore nulla di più perché non ha la continuità di rendimento lui che era il più riposato di tutti era lui ieri che doveva prendere per mano il centrocampo con personalità e non l'ha fatto visto che veniva dalla squalifica era quello più riposato io quando vi dico che vere tu e cristante devono essi panchinari della roma del futuro se vuole vince qualcosa dei centrocampisti è così ragazzi è così poi mi dovete dire ma roma chiaramente ieri non avrà fatto una partita ottima ma non ha fatto neanche la merda che avete riscritto voi nei video che la partita l'ha fatta solo ed esclusivamente la roma e certe volte ci si scorda del bologna che il bologna ha 24 punti ragazzi ne aveva 21 ieri era 4 punti della roma non aveva 15 punti in meno della roma non è una squadra che sta lottando per retrocedere una squadra che tra le rivelazioni del campionato sino la rivelazione del campionato più del verona più dell'empoli più di compagnia del sassuolo e compagnia bella ci sono anche gli avversari in campo ragazzi questo voi non lo non potete considerare il bologna la squadra materasso che che se fa prende a pallonate dalla roma non funziona così il gol loro ieri è stata una sculata clamorosa passaggio sbagliato per far finire la swamberg che imbrocca il tiro della vita sbagliandolo perché non voleva tirare così palla angolatissima forse lì patrissio poteva partire un momento prima e magari prendere ma era difficilissimo ma poi la partita l'ha fatta solo a roma buco tutti i suoi difetti i passaggi sbagliati ripartenze sbagliate ma comunque ieri abram si è mangiato quel gol clamoroso alla fine del primo tempo di testa a due metri dalla porta di ginocchio scuruschi sempre nel primo tempo quando la parata su abram miracolo nel secondo tempo parata di scuruschi su quel tiro dentro l'aria altro gol mangiato di mighitarian girata la prima di abram parata di scuruschi ragazzi tu hai generato quattro palle gol e queste quattro palle gol almeno due le devi fare quella di mighitarian e la prima di abram se tu segni come devi segnare e sfrutti al meglio le occasioni che hai la partita la vinci se tu continui come avevamo fatto col genova a mangiarti i gol poi è chiaro che puoi andare in conto a una sconfitta che per me è meritata poi tu ognuno fa le sue valutazioni ragazzi per me ieri la sconfitta la roma è meritata nonostante non abbiamo brillato questo bisogna tenerne conto non se può sempre buttar merda e la roma si sapeva quest'anno arrivare quarti era proibitivo non basta murigno ragazzi ci vogliono i grandi giocatori per arrivare a certi livelli lì alla roma ci puoi mettere anche guardiola il risultato non cambia murigno già sta facendo meglio dell'anno scorso perché l'anno scorso siamo arrivati settimi per adesso siamo quinti ragazzi murigno deve migliorare l'andamento di l'anno scorso arrivare in champions quest'anno ci sono delle squadre molto meglio attrezzate di noi le prime quattro sono molto meglio attrezzate di noi hanno un gioco consolidato hanno giocatori di valore è una rosa ampia noi non stiamo a quei livelli è inutile che si attaccano a certe cose murigno che deve fare con la rosa che c'ha che cosa deve fare chi fa giocare carles peres noi ci avemo diavara ci avemo e ringraziamo dio che è rientrato smolling alla difesa ha preso un gol nell'ultime quattro partite questo proprio non lo dite però e vogliamo parlare dell'arbitro di ieri che ci ha buttato fuori gas drop e abram per l'inter la munizione di abram assurda falli su zagnolo non fischiati l'ha detto anche murigno a fine partita io consiglio a zagnolo di andare all'estero perché qui non lo fanno giocare non lo tutelano no non è che abbiamo perso per l'arbitro assolutamente no non è quello però gli arbitri negli ultimi due mesi ci hanno massacrato e quello pure ha inciso ha inciso terribilmente in una squadra che già le sue difficoltà se voi questo non lo capite l'obiettivo della roma è sì arrivare quarta ma era difficile ci sono squadre ripeto più attrezzate adesso io non so se a gennaio si farà un mercato importante per rientrare però la roma affronterà l'inter con tante defezioni non possiamo pretendere e già buttare la croce già alla prossima con l'inter ah sta squadra di merda sta squadra di pippa indegna 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 di che la roma anche nelle partite in cui ha perso ha sempre lottato ci ha sempre provato ha sempre corso pure ieri ha corso per 90 minuti ha lottato magari anche in maniera confusionaria pure col venezia quando era andata sotto nel primo tempo ha ribaltato la situazione poi è andata sotto l'ha chiuso il venezia ma non ne siamo stati lucidi a ribaltare situazione con me hanno perso 2 a 1 con la Lazio 3 a 2 con io e 1 a 0 cioè non è che abbiamo fatto delle partite scandalose cioè dobbiamo renderci conto ragazzi che questo è un anno di transizione non possiamo pretendere perché secondo voi allora noi avremmo dovuto vincere con verona con venezia che ci poteva basta vincere con se tu squadre ma ci può stare anche non non farlo e il derby e dove stavamo all'ottavo scudetto in questa maniera cioè ragazzi voi dovete essere realisti non siete realisti ma bisogna stare comunque vicino alla squadra e questo io non lo sto vedendo non lo sto vedendo sembra che non si che che non sia la voglia subito di buttare la croce addosso alla squadra fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate iscrivetevi al canale tanti like e commentate vi ricordo domani sera la live con Michiglielo Red